Una scommessa vinta, quella di Paolo Genovese, che dopo il grande successo del film del 2016 ha voluto portare in un teatro, in un palcoscenico, per fatti sconosciuti. La brillante commedia sull'amicizia, sull'amore e il tradimento, che vede un gruppo di amici a cena che decide in una notte di eclissi di luna di fare il gioco della verità, di mettere cioè i propri cellulari sul tavolo e aspettare, aspettare che arrivino messaggi e telefonate da leggere e ascoltare rigorosamente in viva voce. E quindi mi state dicendo che qui nessuno di noi ha segreti. Ma che segreti vuoi avere? Ormai conosciamo tutti da memoria. Ma vabbè dai, voglio sperare che qualsiasi segreti ci sia. Cosa? E se non penso che... Noia. E allora scoppiamo. Facciamo un gioco. Che gioco? Mettiamo qui tutti i nostri cellulari. E per tutta la durata della scena, messaggi, staff, telefonate, quello che arriva là. Leggiamo e ascoltiamo tutti insieme. Chi ricorda il film rivive le verità, provate anni fa sul grande schermo. All'esordio come regista di teatro, Paolo Genovese confeziona un'opera davvero da manuale, fedelissima al reale, al quotidiano, nell'era del digitale, dove il gioco al massacro deciso emoziona e fa ridere perché naturalmente tra amici ci si copre. Mi mandava una fotina. Una fotina. Una piccola fotina. Una foto su. Ma vabbè dai, capito? Capito sì, a mezzanotte ti arriva la fotina. E così i segreti più profondi, più scomodi, sono alla mercè di amici di una vita che si scoprono perfetti sconosciuti quella sera. Uomini e donne che hanno una vita pubblica, una privata e una segreta, tradita quest'ultima dai telefonini che si trasformano in aggeggi infernali. Alla fine applausi tanti e sinceri per il cast tutto. Gli attori Valeria Solarino, Lorenza Indovina, Massimo De Lorenzo, Paolo Calabresi, Marco Bonini, Alice Benini, Dino Abrescia. Replica il nuovo. Fino a domenica. Fino a domenica.